Direi di partire presentando appunto la professoressa Flavia Marzano che ringraziamo per essere con noi presso Ecoistituto di Reggio Emilia Genova che è informatica, docente universitaria e consulente su tanti argomenti che sono, ne cito alcuni, trasformazione digitale, strategia per l'innovazione, nuove tecnologie e nuovi media, formulazione appunto di normative nazionali e regionali in materia, open government, open data, open source, smart city, ecco qui siamo molto interessati visto che abbiamo parlato tanto anche appunto di questa dimensione delle smart city, saremo anche veramente molto interessanti e poi valutazione di progetti e consulente appunto performance su competenze digitali e open government. E' anche stata mentore a supporto di giovani per scegliere il proprio futuro scolastico e lavorativo e questo lo voglio dire perché è importante avere persone di riferimento per i giovani ed è presidente del comitato tecnico scientifico della fondazione Ampio Raggio. Interverrà su alcune tematiche importanti poi lei appunto ci introdurrà a queste tematiche e cioè quali possono essere gli approcci per conoscere, riconoscere e affrontare i pregiudizi nell'intelligenza artificiale. Una domanda che verrà posta all'interno di questa lezione è cruciale appunto dell'intelligenza artificiale, la possibilità di garantire sistemi equi e inclusivi e poi su alcuni altri temi importanti come l'analisi di dati, la trasparenza e il monitoraggio continuo. Quindi la parola a questo punto alla professoressa Flavia Marzano che ringraziamo per essere qui con noi stasera. Grazie, grazie davvero di cuore, grazie a voi, è un piacere intanto rivedervi ed è un tema che sì comincia a essere un po' più caldo di quanto non è stato fino ad ora. L'intelligenza artificiale pregiudizi quelli che si chiamano insomma poi tradotti bene o male insomma bias cognitivi, pregiudizi ognuno, ogni essere umano ai propri, ognuno di noi ai noi ce li ha e visto che l'intelligenza artificiale parte, è nata negli anni 50, non è una roba fresca di pacca, però non riusciva a produrre quello che adesso riesce a fare proprio perché mancavano intanto la quantità di dati che adesso sono a disposizione e dall'altra anche il peso dei dischi della memoria, gli spazi dove vengono contenuti eccetera. Tuttavia appunto abbiamo delle grandi soluzioni, delle belle cose che si possono fare, fantastico, ma bisogna anche stare attenti a farla in maniera da evitare. Tu mi hai presentato già per un po' di cose, aggiungo appunto tra le mie parole chiave anche femminista, ebbene sì rompo, e la partecipazione. Credo che la partecipazione sia un diritto dovere, diritto dei cittadini e un dovere della pubblica amministrazione garantirlo, non sempre lo fa, anche se magari teoricamente sono consapevoli che dovrebbero. Sei stata anche assessora a Roma, Roma capitale, per Roma semplice. Sì, con la delega all'innovazione e alle pari opportunità, un po' di cose le abbiamo fatte anche in quel contesto, e sono cose che appunto servivano proprio su queste parole chiave. L'open source, ho fatto installare, disinstallare 8000 licenze office perché non erano in uso da più di sei mesi, nessuno si è lamentato, quindi evidentemente non servivano. Abbiamo fatto i punti di facilitazione digitale che adesso con il PNRR vengono fatti sul territorio nazionale, cose che servono proprio per queste parole chiave, garantire partecipazione, trasparenza, open source, dati aperti. Se avremo tempo parleremo anche di questo perché i dati c'è un obbligo di legge per la pubblica amministrazione che richiederebbe di aprirli, purtroppo le pubblica amministrazioni non lo fanno, non c'è un indirizzo sufficientemente chiaro dal punto di vista politico e i funzionari fanno quello che possono. Mi definisco una why notter, cioè una che dice perché no, anziché dire sì ma, proviamo, anziché dire yes butter, appunto il contrario è di yes butter, e co-co-co che è collaboro per condividere conoscenza, che è questo il concetto su cui lavoriamo, proprio la condivisione di conoscenza, ma ne riparleremo. Questo signore sicuramente lo conoscete, era un grandissimo persona che ha fatto veramente cose fantastiche, Stefano Rodotà, e nel 2015, quindi ormai nove anni fa, ha fatto la dichiarazione dei diritti di internet in cui diceva che le istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale, tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche, oltre che da altre situazioni di vulnerabilità. Le tecnologie sono fantastiche, oggi non saremmo qui in tanti, ognuno da più o meno casa sua a poterci condividere idee e pensieri se non ci fossero le tecnologie, però non possiamo dimenticarci che il cosiddetto digital divide, che una volta veniva considerato soltanto a livello infrastrutturale, cioè la mancanza di connessioni, c'è ancora purtroppo perché si va in piccoli borghi o lontani dai centri abitati grossi, ancora problemi di connettività ci sono, ma i divari digitali sono quelli sociologici, economici, culturali, generazionali, e ai noi anche questo è venuto fuori con estrema chiarezza durante la pandemia e di genere. E parlando di intelligenza artificiale, che è quello di cui parliamo oggi, il tentativo di fare il debiasing, quindi cercare i bias ci sono, nel senso che l'intelligenza artificiale si basa sui dati, su quali dati? Non sono dati controllati, sono i dati che trova ovunque nel mondo, in qualunque database, ci sono motori di ricerca che navigano ovunque nel mondo, pescano le informazioni, i dati, li elaborano e decidono qual è la soluzione. Il problema è che questi dati, chi li ha messi, con che criterio, che cosa ha fatto per, ma adesso lo vedremo più di dettaglio, anche banalmente, chi ha sviluppato la piattaforma di intelligenza artificiale. Nel mondo, purtroppo, al 90% sono uomini, dico purtroppo, ma se fossero donne sarebbe sbagliato lo stesso, sarebbero bias di genere femminile anziché di genere maschile, ma sempre bias sarebbero. Dobbiamo imparare a lavorare insieme per provare ad abbatterli, ma vedremo come, un pochino proviamo a vedere perché. Quali sono i problemi prima? Ereditano, ovviamente, i sistemi di intelligenza artificiale pregiudizi dei dati con cui vengono addestrati. Voi sapete che noi, i sistemi di intelligenza artificiale, vengono addestrati basandoci sui dati e questo può portare discriminazioni ingiuste, oppure anche solo banalmente decisioni parziali. Vi faccio un esempio, fate un, mandate un curriculum per essere assunti, assunte, il curriculum, adesso, visto che soprattutto nelle grandi aziende, vengono prima di tutto valutati da un sistema di intelligenza artificiale, che così, anziché far sì che l'omino, la persona che deve lì e stare a guardare dei 200 curricula che gli arrivano, quali sono i 10 cui fare un colloquio, lo fa fare a una macchina in automatico. Questa macchina è addestrata su dati. Quali dati? I dati storici, ma anche chi ha scritto questa piattaforma ha i propri bias. Quindi c'è il pericolo che in quel curriculum assumano preferibilmente persone di un certo tipo anziché di un altro, uomini anziché donne, ma anche ingegneri anziché matematici, magari per quel lavoro un matematico sarebbe meglio, che ne so. Quindi discriminazioni. Possono non rappresentare in modo equo le diverse categorie demografiche, perché genere, età, etnia, religione, a voglia ce ne sono da vendere. Anche noi oggi qui siamo più o meno persone dello stesso tipo, ma sono sicura che ognuno di noi ha dei bias che altre persone in questo gruppo oggi potrebbe dire guarda che così non è, quello che pensi tu non è veramente corretto, proprio perché siamo fatti così. Sì, hanno fatto un test anni fa per l'assunzione di persone nelle orchestre. Allora, se li assumevano in presenza, assumevano più uomini che donne. Se li assumevano facendogli fare il test dietro una tenda, assumevano più donne che uomini. Ma mica perché i valutatori erano brutti e cattivi, semplicemente perché il bias cognitivo, ahi noi, ce l'abbiamo. E ce l'avevano evidentemente anche loro. E il modello che è addestrato su dati testuali rischia di acquisire stereotipi culturali, linguistici. Anche solo banalmente, è meglio dire così o cos'ha? Eh, nella mia lingua così, nella tua cos'ha? Allora, chi è che lo scrive? Con che criterio? E quindi si influenzano le risposte. E se non rappresentano i dati di addestramento del sistema di intelligenza artificiale, non rappresentano la popolazione di interesse, ci sono anche dei bias di selezione, ahi noi. E riflettono circostanze e opinioni di un periodo storico. Quindi anche il bias temporale. È chiaro che se noi andiamo a parlare ai nostri nonni di cosa sarebbe successo durante la pandemia, o ne parliamo con un quindicenne o un ventenne, la risposta è diversa. Sono della stessa mondo, dello stesso paese, probabilmente anche con la stessa cultura, ma c'è un bias temporale. L'esperienza e la competenza di quelle persone è diversa da quegli altri. E quindi una distribuzione non uniforme dei dati rischia di portare a modelli che sono, ai noi, più abili a prevedere le classi sovra-reppresentate. Perché? Perché ci sono più dati su di loro. E quindi la maggior parte dei dati parla delle classi sovra-rappresentate ed esclude, rischia almeno, l'esclusione di altre classi. E se le caratteristiche rilevanti per il compito sono rappresentate in modo distorto o anche solo incompleto nei dati di addestramento, si rischia che il modello impari delle relazioni sbagliate o quantomeno parziali. E anche nella raccolta dei dati ci possono essere errori, il campionamento è fatto in maniera non corretta, mancano controlli di qualità, anche qui bias sui dati. Ma anche concettuali, banalmente, se io vi dico che da qui a domani sera avrete a disposizione un litro d'acqua per bere e niente altro, ognuno di voi ha il proprio bias e dice un litro, vabbè, insomma, dai, siamo a maggio, non ci sono 60 gradi all'ombra, non devo fare una camminata di 18 chilometri, avrò un po' sete domani sera ma ci arrivo. Se lo chiediamo a una persona che vive nel deserto a 50 gradi, mi dice io muoio nel giro di tre ore. Quindi anche banalmente sono dati visti da diversi punti di vista. E c'è quello che si chiama il feedback loop dei bias, perché se i modelli vengono utilizzati per prendere decisioni ma che influenzano a loro volta i dati futuri, genero dati ulteriormente sbagliati, quindi entro in un loop negativo e i risultati continuano a peggiorare, quindi diventa un circolo vizioso di amplificazione di questi pregiudizi. E l'ultimo, che dulcis in fundo ma cauda venenum, mi sembra che gli assomigli di più, sono i bias di genere, perché ai noi si rischia di perpetuare disuguaglianze di genere che nella società ci sono. Non credo che bisogna essere troppo femministe per dire questo, ma sono abbastanza evidenti, banalmente anche soltanto a livello retributivo. Cioè io prendo una persona, la pago X, una persona di genere maschile, di genere femminile, gli tolgo il 20%, perché è così. Nei dati. E quindi perché no? Io azienda, non ci penso neanche, lo faccio fare, è un sistema di intelligenza artificiale, e ci sono diversi problemi che possono essere generati dall'addestramento di questi modelli. Quindi l'idea di, l'inclusivity di questa immagine sarebbe, credo, possa, debba essere, l'obiettivo che abbiamo noi società civile, che devono avere le persone che insegnano, e quindi dall'elementare in su, io credo che un po' di questo tipo di formazione vada dato anche alle maestre elementari in su, e è un bias che è a qualunque livello della cultura e possiamo soltanto lavorare insieme per provare ad abbattervi. Faccio alcuni esempi di bias di genere. sbilanciati possono essere in termini di rappresentanza, e quindi impara relazioni distorte perché sono sbagliate. Se in quel tipo di azienda il 98% dei manager è uomo, la probabilità che mi dica che è molto più giusto assumere un uomo in quel ruolo è alta, perché lo dicono i dati, lo dice ai noi, la storia, perché siamo ancora lì per non parlare, visto che si parla del natural language processing, quindi dell'elaborazione del linguaggio naturale, e i modelli di elaborazione del linguaggio naturale possono replicare anche il linguaggio sessista, che spesso nei testi di addestramento può essere, e si arriva ancora una volta a output discriminatori o risposte che riflettono ai noi stereotipi di genere. Poi è chiaro che dipende moltissimo da chi lo fa, da chi ascolta, da quanto siamo in grado di cogliere anche le differenze e di quanto siamo disposti ad ascoltare la persona diversa che ci dica guarda che vedo un bias. E se i dati di addestramento riflettono preferenze o discriminazioni di genere, i modelli potrebbero ai noi imparare a replicarli nelle loro predizioni. In ambito lavorativo è proprio banale, si è visto centinaia di volte che i curricula appunto analizzati da sistemi di intelligenza artificiale, in certi ruoli scelgono preferibilmente uomini. Perché? Perché sono i dati che glielo dicono, non perché sono brutti e cattivi, semplicemente il modello che è stato costruito basato su quei dati suggerisce ruoli o opportunità in base al genere. Quindi escludendo o includendo tipologie di persone. Persone che anche lì, ripeto, può essere che prendo l'ingegnere e non il matematico, non il fisico, non l'informatico, sono persone con competenze molto simili ma molto diverse. Ma se il manager è sempre stato un ingegnere, e io un matematico non lo prendo, un informatico neanche. E magari non prendo neanche un economista che invece potrebbe, avendo competenze economiche, gestire un'azienda, almeno dal punto di vista del budget, molto più avanzato. Ma se sono sempre stati, viceversa, se sono sempre stati economisti, non prendo un ingegnere, anche se invece gli vado a far gestire una struttura che è molto tecnologica, che avrebbe bisogno della sua competenza e della sua storia. Assunzioni di genere nelle immagini, anche le immagini purtroppo c'è un'assunzione implicita su ruoli e attività in base al genere. Questo influenza le prestazioni del modello in contesti in cui queste assunzioni non sono valide. E le immagini, banalmente, se c'è un'immagine da cui, o d'altra parte, se io vi dico pensate a una persona che sta lavando i piatti, nel nostro paese il 90% delle persone dicono che è una donna. Ti immagini una persona di genere femminile. Ti dico immaginati una persona dietro un computer, forse adesso è un po' meglio, ma anche lì forse è una percentuale più alta, oppure immaginati un muratore, un muratore, già solo il termine è di genere maschile. Non ce ne rendiamo nemmeno conto che invece io magari sono bravissima a fare, che ne so, l'idraulica, l'idraulica non c'è nemmeno il termine al genere declinato al femminile, perché no? Però appunto c'è, è normale. Ripeto, stiamo parlando di intelligenza artificiale, non stiamo parlando di politica per il femminismo, semplicemente che l'intelligenza artificiale per produrre quello che produce si basa sui dati, e i dati li gestiscono gli esseri umani, e gli esseri umani sono fatti come sono fatti, ognuno con i propri bias. Nei dati di salute, i dati relativi alla salute, ci possono essere assunzioni di genere che influiscono anche sulla diagnosi. Infatti ci sono molti, moltissimi adesso, piattaforme di intelligenza artificiale che stanno lavorando proprio su questo. D'altra parte, immaginatevi, se io ho una malattia rarissima, che ce ne sono, che ne so, dieci in tutto il mondo, quindi tutti i miliardi di esseri umani, ce ne sono dieci in tutto il mondo. È poco probabile che il mio medico o i medici del gruppo dove io vivo siano consapevoli che ce ne sono altri nove. Si trovano di fronte a questa problematica, non l'hanno mai trovata, nella loro storia, nella loro competenza, nella loro cultura, nei loro libri non c'era, e non sanno come uscirne. Uno strumento di intelligenza artificiale coglie, pescherebbe anche gli altri nove, mettendoli insieme, se si riesce a fare nel modo corretto, questi dati in realtà risolverebbero il mio problema, perché magari c'è in Australia o in Sud America qualcuno che per fortuna, per competenza, ha già risolto il mio problema, che è pur rarissimo, e quindi trova la soluzione. Quindi c'è anche la faccia positiva della medaglia, il lato positivo della medaglia, ovviamente, però ci sono dati, adesso i medici lo sanno, ma persone un po' meno esperte di medicina, se io dico quali sono i sintomi dell'infarto, il 90% delle persone ti dicono che è dolore al petto, lato sinistro e al braccio sinistro. Questi sono sintomi molto maschili, le donne hanno altri sintomi, a volte che non riescono nemmeno a essere riconosciuti dal pronto soccorso, perché sono nausea, vomito, cose che mi dici, vabbè, hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male, digiuna per 24 ore, poi torni e nel frattempo muoio d'infarto. Se ci sono tanti dati che vengono raccolti nella direzione giusta, anche in ottica di genere, si evita un po' di trattamenti sbagliati, o quantomeno di diagnosi non ancora ben individuata. Non è roba da poco, si possono fare tante belle cose. A proposito di tante belle cose, oggi leggevo qualcuno che si lamentava del fatto, uno studio che diceva che l'intelligenza artificiale porterà via lavoro alla pubblica amministrazione, a dipendenti della pubblica amministrazione. Probabile il lavoro, quello di routine, ma magari gli facciamo fare qualcosa che è più divertente, che non banalmente mettere 18 timbri e rispondere alla stessa domanda a 500 cittadini al giorno, perché il 90% delle domande che gli arrivano sono sempre le stesse. Come faccio per, ho cambiato residenza, dove devo andare, eccetera. Un robottino online che ti risponde velocemente al grosso di queste e il dipendente non viene licenziato, ma gli viene fatto fare quello che purtroppo oggi non riesce a fare, perché sapete che i dipendenti italiani sono molto meno della media europea, siamo quatt'ultimo posto come numero di dipendenti correlato al numero degli abitanti. Quindi non abbiamo troppi dipendenti pubblici, anzi, bene, quelli che risparmiano il loro tempo, perché la routine gliela gestisce uno strumento di intelligenza artificiale, possono essere utilizzati in altri contesti e quindi fare servizi migliori alla cittadinanza. e anche la discriminazione nelle decisioni automatiche, perché spesso vengono utilizzati, no? Per decidere un promuovo, un finanzio e anche questi ci possono prevedere bias nell'addestramento e quindi apportare decisioni discriminatorie. Ora l'ho declinata in ottica di genere, ma potete declinarla in ottica di una religione diversa, di un colore diverso, di una lingua diversa. Magari sì, io sono russa o giapponese, però l'italiano lo parlo benissimo perché io ho vissuto tutta la mia vita in Italia e non vengo assunta perché uno dice ma questa è giapponese, cosa vuoi che sappia? A me mi serve che sappia l'italiano perfettamente. E c'è il rischio che appunto lo strumento, se non è stato analizzato bene, rischi di discriminazioni sbagliate. Questo è un esempio che non ha niente a che fare con l'intelligenza artificiale, ma dolorosamente vero. Se andate su Google e scrivete la donna deve, la donna deve, senza fare invio, vi apre questo menu a tendina. Fantastico, non so se mi spiego. Deve sentirsi desiderata, deve essere amata, deve fare figli, deve farsi desiderare, deve coprirsi il capo, deve essere rispettata a bontaloro, deve seguire il marito. Questi sono dati, dati che su cui lavorerebbe anche uno strumento di intelligenza artificiale. Per cui, cosa deve fare la donna? Non deve diventare il capo dell'azienda multinazionale. E guardate, l'uomo deve, perché c'è anche quello ovviamente. Ci sono, la terza è fantastica, deve puzzare da dove è nata. Lo sanno solo loro, ma evidentemente hanno dei buoni motivi per pensare. L'uomo non deve chiedere mai, deve sempre pagare, deve pagare la cena, non deve chiedere mai psicologia, whatever, cosa significhi, non so, deve proteggere la donna, fare il primo passo, deve fare l'uomo, wow, deve essere addestrata alla guerra, la donna al riposo del guerriero. Ecco, questo non c'entra niente, ecco l'intelligenza artificiale. Questi sono dati che il crawling che fa Google quando va a prendere le informazioni nel mondo, legge, l'uomo deve, e queste sono le cose che sono più, le prime che arrivano. Ma su questi dati e poi la gente costruisce, gli sviluppatori costruiscono piattaforme di intelligenza artificiale. Io capisco il vostro sdegno, ma ai noi, questo è il mondo. Io vedo le vostre facce che condivido, ovviamente, ma questo è il mondo in cui viviamo, dobbiamo fare i conti su questo. Vorrei, non ho provato a farlo in un'altra lingua, questo giochino, lo farò la prossima volta, perché chissà se lo scrivo in danese viene fuori nello stesso modo, forse no, perché, boh, io ho vissuto un anno in Danimarca all'anno accademico 80-81, quindi 44 anni fa, e già allora avevano un senso del diverso e del valore delle differenze che era incomparabile. Vi faccio, tolgo dalle tematiche di genere, vi racconto soltanto tematiche sulla parte delle persone con disabilità. ho assistito a una manifestazione davanti a un cinema di ragazzi e ragazze in carrozzina e sono andata a chiedere come mai. Temevo che ci fossero scalini, ripeto, era il 1980, noi abbiamo ancora degli scalini alti così praticamente ovunque, anche negli ospedali a volte abbiamo lo scalino che non, oppure non abbiamo, insomma, l'ascensore largo così che una persona in carrozzina non entra, eccetera. Allora, avevano lo scivolo di accesso, bene, avevano la piattaforma di sosta perché il cinema era un cinema d'anfiteatro e quindi in discesa tipo un teatro e quindi avevano la piattaforma di sosta perché se il freno gli si fosse rotto si sarebbero fatti male andando rotoloni in fondo alla platea. Avevano anche le vie di fuga in caso di emergenza. Avevano detto ragazzi, ma allora mi dite voi di che cosa vi state lamentando? Eh, perché le vie di fuga ci passa una carrozzina alla volta, quindi il primo si salva, il secondo forse e il terzo morirebbe di sicuro. E io gli ho detto in Italia venite fra duemila anni perché prima non siamo pronti perché ancora oggi, 44 anni dopo, continuo a trovare persone che sono parcheggiate sull'unico scivolo che finisce con le strisce, le strisce finiscono con uno scivolo e c'è qualcuno parcheggiato sopra. Io, che per fortuna cammino con le mie zampe, ci faccio il giro intorno, rischio magari di essere, insomma, sto un po' attenta, non mi faccio mettere sotto, ma una persona in carrozzina non ha alternativa. Punto. E questo, non c'è nessuno che gli faccia nemmeno una multa. Altra cosa, che è sempre stata mia esperienza danese, per questo dico, questa cosa bisogna che la riprovi a vedere Google che cosa fa in danese, ma in svedese, in orvegese immagino sia uguale, che era una sera tardi, ero con degli amici, stavamo rientrando, su una strada, un vialone enorme, a quattro corsie, due in una direzione, due nell'altra, c'era le strisce per i pedoni e il semaforo per i pedoni. Il semaforo per i pedoni era rosso, quindi io mi fermo, guardo a sinistra, non c'era una macchina per chilometri, guardo a destra, non c'era una macchina per chilometri, faccio un passo, un mio amico mi ha acchiappato per il braccio e mi ha detto dove vai? Ma non c'è nessuno, è rosso, ecco, quando gli italiani avranno imparato questo sarà il 2099, forse, chissà, forse, mai, questo è, torniamo a noi, altro poito di bias, linguistici, mi sento tutte le volte dire, ecco, questo è successo quando, appunto avete visto, sono stata assessora a Roma, la mia prima battaglia l'ho vinta con la sindaca Raggi, perché loro mi hanno fatto un colloquio per decidere se aveva senso che io facessi l'assessora con loro, non essendo del Movimento 5 Stelle dovevano capire se mi volevano o non mi volevano per le competenze che avevo, eccetera, ok, e a un certo punto parlando di se stessa la sindaca ha detto sindaco e io l'ho corretta in sindaca e c'era tra i presenti una deputata dei 5 Stelle che mi ha detto che sindaca era proprio, suonava proprio male, male, male e io le ho risposto, dico guardi, le dico quello che ho risposto a un suo collega deputato anche lui qualche settimana fa che parlando di Madia l'ha chiamata ministro e io l'ho corretta, corretto in ministra e lui mi ha risposto sì ma ministra è cacofonica, consentitemi di dire quello che ho detto allora, anche stronzio è cacofonico, ma non lo chiamo né sodio né magnesio, sempre stronzio resta, però è cacofonico, e devo dire che quando ho detto questo la sindaca Raggi ha detto ok mi ha convinto sindaca, è stata la mia prima battaglia vinta a Roma, non ne ho vinte molte altre ma un po' qualcuna sì, così come avvocata o chi è cattolico l'avvocata nostra da quando era piccolo che lo dice, però no, devono dire avvocato, la signora avvocato, poi è peggio avvocatessa che non ha senso, c'è l'avvocata ma va bene per non dire la presidente ma qualcuno dice ma allora dovrei dire presidentessa, dico non dici mica deficientessa, dici deficiente, allora se io sono una deficiente, sono una presidente, la non, e altra cosa su cui ci sono molti errori, alcuni sono di origine linguistica, soprattutto nella parte nord, un po' in Lombardia, un po' anche nel Triveneto che si mette l'articolo davanti al cognome, ma nel resto dell'Italia no, voi sentite dire Renzi, non il Renzi, e allora perché la Meloni? sentite dire la russa, non il la russa, e allora perché dire l'ashline? Perché se dico solo Meloni, se dico solo Marzano, vuol dire che è un uomo, no, vuol dire che Marzano di chiama il suo cognome, quindi attenzione, togliamolo, così come il gli riferito a una donna, che cosa gli dici? A una donna che cosa le dici? Ma vabbè, c'è ancora da lavorare, su questo, ripeto, tornando al concetto di intelligenza artificiale, anche su questo, un pochino di cose ci sono da fare. E qui ci sono un po' di proposte, ci ho provato, prima di tutto la consapevolezza, quindi riconoscere il problema, capire, avere la consapevolezza, chiunque se ne occupi, che i sistemi di intelligenza artificiale possono, ai noi, dolorosamente, facilmente, essere influenzati da pregiudizi, è il primo passo verso la soluzione del problema, quindi sapere che può esistere quel problema, i pregiudizi nei dati che analizza un sistema di intelligenza artificiale, quindi l'analisi, valutare i dati utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, per identificare e possibilmente anche mitigare eventuali pregiudizi che sono incorporati nei miei dati, quelli che abbiamo visto anche prima. La diversificazione del team, il team, se ci sono soltanto donne dai 50 anni in su, daranno errori per forza, perché non ci sono giovani, non ci sono uomini, eccetera. Quindi diversificati, esperti di etica, sociologi, psicologi, rappresentanti delle comunità che sono coinvolte, questo può contribuire ad affrontare, individuare i pregiudizi in modo più efficace. Il AI Act, quindi l'Artificial Intelligence Act che ha fatto la Commissione Europea tempo fa, aveva 52 persone dentro il gruppo e c'era di tutto, economisti, ingegneri, giustamente, giuristi. Il problema va, ecco, di solito faccio l'esempio del prisma. Se io ho un prisma, questo è il nostro problema, io vi dico, è rosso. Una persona davanti a me mi dice, ma no, Farda, Flavia, che è blu. Una persona alla mia sinistra mi dice, è giallo. Una persona alla mia destra mi dice, è verde. Basterebbe che lo girassi e lo vedrei. Ma io da sola non ci riesco. È rosso, vedo tutto bello rosso, non mi viene neanche in mente che ruotandolo vedrei altri colori. Quindi, il team diversificato che è un punto di vista diverso contribuisce quantomeno a individuare eventuali pregiudizi e poi di conseguenza si spera anche ad affrontarli e risolverli. Audit, audit dei modelli, audit regolari sui modelli in intelligenza artificiale, audit con chiunque appunto una variata tipologia di stakeholder proprio perché più sono diversi e più riescono a promuovere l'eventuale equità sociale. Trasparenza. Dati aperti. Garantire la trasparenza dei processi decisionali dei modelli di intelligenza artificiale. Come funziona quel modello di intelligenza artificiale? Io posso andare a vedere con possibilmente il codice infatti i grossi anche anche aziende come Microsoft che sono che è un'azienda che tutto fa tranne che open source perché il suo mondo è un mondo di licenze chiuse ma le piattaforme di intelligenza artificiale le sta aprendo proprio perché ha la consapevolezza che garantire la trasparenza serve anche all'azienda a evitare risposte sbagliate. Lo fa meta quello di Facebook per capirci stanno facendo in modalità open source quindi trasparenza dei processi decisionali mettiamolo nelle mani di una pubblica amministrazione la pubblica amministrazione che ha un processo decisionale in base al quale decide se finanziare la famiglia A o la famiglia B oppure se decidere se fare una cosa oppure un'altra nel mettere nel bilancio una voce o un'altra se si riesce ad ammettere all'aperto di far capire quindi garantire la partecipazione attiva della cittadinanza in cui io posso controllare cioè abbasso il rischio e quindi aumento la probabilità di abbattere i divari e i bias una regolamentazione abbiamo detto c'è l'AI Act c'è anche a livello nazionale un decreto recentemente hanno fatto l'agenzia per l'Italia digitale ha fatto anche un suo decalogo quindi cominciano a esserci regolamenti che richiedono valutazione da una parte ma anche mitigazione dei pregiudizi di intelligenza artificiale proprio promuovendo responsabilità ed equità nell'uso di questi sistemi formazione l'abbiamo già detto prima formazione dai piccolissimi ma anche ovviamente prima di tutto i professionisti dell'informatica chi sviluppa piattaforme e anche gli utenti perché io posso supportare chi lo ha scritto un applicativo nel cambiare eventualmente quello che ha scritto e monitoraggio continuo non è che se abbiamo fatto con tanti attori diversi abbiamo guardato il prisma da tutte le sue facce quindi abbiamo fatto abbiamo finito no? perché c'è la fase temporale che dicevamo prima perché fra uno due cinque anni sarà ancora così? Ci saranno cose nuove che sono successe nel frattempo in termini normativi in termini tecnologici quindi va monitorato l'efficacia delle strategie che abbiamo adottato per mitigare questi pregiudizi e di conseguenza agire e apportare nuove modifiche proprio perché il contesto è evoluto e noi lo seguiamo e questo è un altro sogno da sempre la coprogettazione è in modo molto non ben educato che questo signore sta dicendo al progettista dove voleva la strada lui lo dice coi piedi banalmente va dove secondo lui è più veloce più comodo andare il progettista invece ha progettato questo bel vialetto ok se si fossero messi insieme nella coprogettazione magari non sarebbe stato come voleva l'utente ma probabilmente nemmeno come voleva il progettista forse avrebbero fatto una curvetta chissà avrebbero probabilmente trovato un modo che andava o quantomeno scendendo a compromessi un pochino entrambi ma si sarebbero risolti questi problemi che al limite banalmente come hanno fatto davanti alla stazione di Pisa anni fa che c'era esattamente lo stesso problema perché dalla stazione dell'autobus arrivare al treno alla stazione c'era in mezzo un'aiuola e la gente rischiava di perdere il treno quindi attraversava l'aiuola a piedi correndo e ha fatto questa cosa poco civile ma così succedeva l'amministrazione non ha trovato alternative ma l'ha recintata se non altro l'ha recintata quindi scavalcare sarebbe costato di più la recintata e i cittadini passavano dalla stradina quindi affrontare i pregiudizi richiede impegno continuo da parte di tutti 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 gli attori coinvolti ma è essenziale per garantire che tali sistemi rispettino valori etici e promuovano l'equità sociale l'inclusione la non discriminazione questa come vedete non è mia io ho finito quasi credo che sia una bella frase che credo che valga la pena sicuramente il passato ci serve ma come competenza per imparare la lezione in avanti con paura non ha molto senso se ci riusciamo a guardare incontro intorno con la consapevolezza di quello che sta succedendo di che cosa potremmo fare per migliorarlo probabilmente riusciremo a vivere più sereni noi ma anche a trovare prima soluzioni l'ultima cosa che vi dico è questa qui in basso a destra a parte che qui trovate un po' di miei riferimenti se mi volete trovare mandare mail o sui social come preferite queste slide sono state scritte come vi dicevo sono una co-co-co collaborare per condividere conoscenza sono state scritte e rilasciate con licenza creative commons che cos'è in Italia il default sarebbe copyright se io non vi dicessi niente voi potete prenderle leggerle regalarle a chi vi pare ma non ci potete fare niente altro avendo io allargato un pochino come vedete c'è un cc by sa cc sta per creative commons by significa attribuzione sa significa share alike cioè condividi allo stesso modo voi potete prendere queste slide dire ho preso le slide di Flavia Marzano cambiarle come volete aggiungere togliere emendare e rilasciare il vostro risultato di lavoro con lo stesso tipo di licenza questo serve per allargare la conoscenza non per chiuderla quindi per condividere io lo faccio Pinuccia ci aggiunge il suo pezzo poi lo rilascerà anche lei nello stesso modo quindi Gabriella potrà prendere il lavoro che ho fatto io con l'aggiunta di quello che ha fatto Pinuccia ci aggiungerà toco e ne migliorà delle altre e alla fine la condivisione della conoscenza e questo è quanto io mi fermo qui sono ovviamente a disposizione per domande grazie mille grazie Flavia è molto interessante e penso che le domande siano tante ma io lascerei subito la parola alla professoressa Luisella Battaglia perché appunto la sua introduzione ma anche poi le sue considerazioni insomma per la sua introduzione rispetto al contesto cioè il pre festival della bioetica sì grazie io veramente sono rimasta impressionata e devo dire che la donna deve l'uomo deve mi hanno veramente scomorato e sono andata a controllare su Google e ho visto effettivamente queste cose incredibili inquietanti allora ma possiamo e dobbiamo denunciare queste cose come nascono queste cose io credo che la gente non lo sappia io ci vorrei fare un articolo lo farò io collaboro al secolo adesso dirò la donna ma sapete che siamo in Iran o siamo in Italia ma non lo so perché si deve coprire il capo ma delle cose allucinanti cioè voglio dire io non ci credevo sono andata a vedere adesso ma allora scusate Google dovrebbe in qualche modo riflettere pensavo rispecchiare sia pure supinamente quello che è il sentire comune ma se questo è il sentire comune se l'uomo non deve chiedere mai e l'uomo deve ma sono cose sconvolgenti allora vogliamo fare qualcosa perché qui c'è riconoscimento del problema a me sembra che non basti qui noi dobbiamo assolutamente denunciare una cosa del genere è scandalosa è vergognosa io ringrazio Flavia di avermi fatto conoscere questa realtà che io trovo sia agghiacciante e non lo so vogliamo fare noi noi donne noi dell'istituto di bioetica dell'ecoistituto metterci insieme e denunciare questo posso posso non non solo non non servirebbe ma secondo me non è giusto perché non è colpa di Google è colpa degli esseri umani che scrivono se io scrivo se milioni di italiani scrivono la donna deve coprirsi il capo quello che fa Google prende semplicemente i dati che scrivono milioni di italiani bisogna fare formazione a milioni di italiani che la donna non deve coprirsi il capo ma la donna è un essere umano con gli stessi diritti dell'uomo sì però però è anche vero che se uno legge questo deve potrebbe anche prenderlo come una specie di decalogo sì ma non può essere imputato a Google questo voglio dire no può essere imputato a Google ma certamente diffonde messaggi che sono sconvolgenti non lo so io lo segnalo perché secondo me il riconoscimento è opportuno però anche la denuncia a questo punto è doverosa a me preoccupa molto anche però chat di GPT perché a questo punto se chat di GPT si costruisce e si forma su questa su questa in questa perché io ho fatto una prova con mia sorella che mi ha fatto vedere chat di GPT lei vive in Portogallo è venuta qui e ho detto beh prova a scrivere il pinuccio a Montanari vediamo cosa c'è scritto se è vero che sa tutto e in effetti aveva scritto delle cose che non erano assolutamente attendibili e soprattutto su quello che io ho fatto anche a Roma allora a questo punto le ho detto scusa adesso glielo dici e gli dici infatti devo dire il sistema si è corretto si è corretto si è corretto ho detto guarda che questo è sbagliato questo è sbagliato e il sistema ha detto grazie anzi ti ha ringraziato è capitato anche a me abbiamo fatto lo stesso esperimento e devo dire come un discepolo che non se ne trovano più di quelli che ti ringraziano perché gli fai notare l'errore si è autocorretto ha chiesto scusa in qualche modo quindi voglio dire c'è una possibilità di correzione di questo ma vedo che Gabriella ha alzato la mano quindi non voglio una cosa che ho guardato in danese ho scritto la donna deve e la prima cosa che è prendere l'iniziativa ma anche qua c'è la prima deve essere indipendente non una cosa e poi deve coprirsi il capo e tutto quindi ci sono messaggi abbastanza sì sì comunque scusa Gabriella io adesso mi scuso ma ero esplosa perché tale è la mia indignazione no l'indignazione beh l'indignazione è un buon segnale è perché il primo passo è per denunciare l'ingiustizia Franco Basaglia diceva uno che ha finito di indignarsi è uno morto per cui continuiamo a indignarci finalmente d'accordo no sono d'accordo con Flavia che cioè attaccare Google non serve cioè Google è il nostro specchio no bisogna andare dall'altra parte dello specchio ho provato ad andare su chat GPT adesso e a digitare cosa deve fare una donna per cui qua siamo nell'intelligenza artificiale prova Flavia anche tu ad andare ed è molto politically correct chat GPT devo dirti e dopo ho provato a fare anche cosa deve fare un uomo e per buona parte dice le stesse identiche cose nell'ultima parte di cosa giusto per dirvi la domanda cosa deve fare una donna è ampia può essere interpretata in vari modi a seconda del contesto posso fornirti una risposta in base a diversi ambiti per una donna diritti e libertà una donna come ogni individuo ha il diritto di perseguire la propria felicità fare scelte autonome eccetera eccetera la stessa risposta la dà per un uomo parla poi di istruzione e formazione l'istruzione è un elemento chiave per l'emancipazione le donne dovrebbero avere accesso a una formazione adeguata che permetta loro e così dice dell'uomo l'istruzione è cruciale per lo sviluppo personale professionale leggermente diverso ma ci siamo gli uomini dovrebbero essere incoraggiati a proseguire la propria formazione e sviluppare competenze potete andarveli leggere ci sono i vari carriera ambizioni professionali vita familiare e personale per l'uomo dice gli uomini dovrebbero sentirsi liberi di essere parte attiva nella vita familiare assumendosi responsabilità domestiche di cura dei figli per cui vedi che è giusta in più per l'uomo dopo varie altre cose da un punto 8 che le donne non ce l'hanno e dice promuovere l'uguaglianza di genere dice questo è bellissimo secondo me gli uomini hanno un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza di genere possono fare la differenza sostenendo le donne nella loro lotta per i diritti opportunità combattendo gli stereotipi di genere e promuovendo una cultura di rispetto e inclusione per cui questo lo aggiunge solo per gli uomini per cui il problema sicuramente qualcuno ha aggiustato la fase di training politicamente corretta ecco per cui l'hanno aggiustata non credo che nelle prime versioni veniva fuori così perché veniva a prendere quello che diceva Google comunque fondamentale un uso non sessista del linguaggio questo su questo dovrebbe essere la nostra battaglia feroce perché altrimenti tutte le traduzioni come lo dicevamo già in altre in altre lezioni tutte le traduzioni sono falsate perché in Italia non esisterebbero mediche perché continuiamo a parlare a dire donna medico no? come donna votata eccetera per cui il linguaggio di genere deve essere una battaglia del comitato di bioetica scusate del comitato di bioetica sarà difficile dell'istituto italiano di bioetica o dell'istituto di bioetica però ci troviamo anche col comitato d'accordo grazie Piluccia scusa grazie grazie bellissima questo intervento scusate no io volevo appunto da un lato comunque di proporre la questione che ha posto Luisella a Flavia e cioè è vero che Google non è responsabile quindi questo è ovvio però è anche vero che è impressionante questa dimensione della trasmissione di un'impostazione culturale che viene poi assunta come diciamo in un'ottica di certo perché è comunque il riflesso sempre di una impostazione culturale che raccolga tutti i dati e che i dati siano quelli che costruiscono questo diciamo scenario culturale comunque è un fatto su cui bisogna molto riflettere io insomma sono abbastanza d'accordo con Luisella che bisogna riflettere perché anche io e sono rimasta adesso sconvolta Flavia dalle tue slide le scemenze le abbiamo viste tante volte su Google questo è ovvio però queste sono sono molto molto diciamo rilevanti sul piano culturale sociale e queste queste veramente sono perché poi potrebbero anche è vero che dobbiamo anche dire che riflettono la società nostra e forse noi non ci abbiamo riflettuto abbastanza su perché forse noi siamo davvero una minoranza che ragiona in altro modo però insomma questa era la prima domanda che ti volevo porre la seconda domanda e invece mi interesserebbe molto sapere dal punto di vista delle smart city come ti ho detto prima perché sai che a me è interessato sempre molto questo ecco come l'intelligenza artificiale possa migliorare diciamo la vita delle città ecco se hai qualche riferimento qualche esempio noi a Genova avevamo iniziato con Genova smart city a fare qualcosina però secondo me era soltanto abbozzato cioè non lo so c'erano i parchi sicuri oppure c'erano insomma queste piccole cose però mi piacerebbe sapere avere da te qualche ulteriore informazione grazie grazie a voi tornando a Google sicuramente indigna bisogna capire dove andare a combattere perché questo non succeda più e non è dicendo a Google di non farlo perché Google deve dare le informazioni come sono ma dare noi dobbiamo formare perché la gente non scriva più queste stupidaggini in internet invece sulla seconda ci sono tante davvero sempre di più per fortuna soluzioni di intelligenza artificiale sempre più possibile a livelli anche banali di informazioni sui dati della mobilità facendo un esempio nelle città medio-grandi soprattutto tu puoi rilevare i dati con dei sensori ma non solo quelli che sono a quel semaforo lì ma quelli che stanno arrivando perché magari arrivano dalla periferia eccetera e capire imparare che ho i dati tutti i giorni a quali ore c'è sempre di più una mobilità maggiore e minore e di conseguenza gestire o gli spostamenti fatti con mezzi pubblici oppure anche la semaforica perché è inutile tenere un semaforo di notte rosso quando c'è una macchina ogni due ore perché di notte la gente non va in macchina e me lo lasci rosso e io sto lì col motore acceso e inquino banalmente di notte o mi metti il giallo che passo e sto attenta o comunque lo fai durare un minuto sulla sanità come avevamo detto prima anche telecamere tornando sempre alla mobilità basate sull'intelligenza artificiale che raccogliendo i dati in tempo reale decidono anche appunto la tempistica quindi risparmi benzina aumenti la produttività non è roba da poco gli incidenti stradali ce ne sono ditemi un settore e sicuramente c'è di che tutto ciò che ha a che fare con l'ambiente di sicuro ma anche la sicurezza la sicurezza dov'è che succedono certe cose dov'è che non succedono mai perché in quella proprio si può fare ai noi anche questo con tutti i difetti che può avere il riconoscimento facciale perché io posso strumenti che riconoscono che io sono io e di conseguenza capiscono se sono una persona pericolosa o meno scusate tossisco ho tolto l'audio se no mi piacevo diventare sordi ce ne sono veramente tanti ecco leggo in chat a Parigi e Vienna i sistemi tengono conto della microbilità no no micro scusa micro mobilità micro mobilità sì esattamente anche questo sicuramente ma anche a livello culturale che cosa offre una città credo che l'unica cosa è che cosa non si può fare con l'intelligenza artificiale più che cosa si possa davvero fare perché ce ne sono per avere città intelligenti c'è praticamente qualunque il grosso in ambito di sostenibilità è sicuramente fortissima perché la sostenibilità implica anche l'ottimizzazione di alcuni di alcuni servizi così come dicevamo all'inizio il risparmio di persone no che possono se io ho un robottino io comune ho un robottino che risponde al 90% alle richieste di un cittadino che vuole sapere cosa fare per nell'ultimo 10% mi dice ok non sono riuscito a risolvertelo telefona lì e trovi un funzionario che ti dà l'appuntamento ma nel 90% dei casi si può e questo è un modo di risparmiare e come dicevamo prima quel funzionario fargli fare qualcos'altro che attualmente non riesce a utilizzare la gestione dei rifiuti sicuramente anche questa dove il cassonetto è pieno è vuoto è mezzo pieno si riempie soltanto di mercoledì come mai di mercoledì si riempie di più che gli altri giorni della settimana non importa come mai ma è un dato uno pensa allo standard non gli viene in mente come mai e poi perché magari perché in quel quartiere il mercoledì fanno sempre tutti una grande festa quindi portano poi fuori tonnellate di rifiuti ok credo che bisognerebbe forse anche aiutare i politici ad avere la consapevolezza di che cosa ci possono fare garantendo ovviamente insisto perché su questo è essenziale la parte etica di privacy di rispetto appunto mi fai il riconoscimento dell'immagine il riconoscimento facciale e poi la mia faccia non la sbatti sui social a dire cosa faccio e perché insomma sono fatti miei quindi tu polizia municipale o amministrazione lo puoi ovviamente sapere ma non non va pubblicata su un sito ecco mettiamola così non so dare una una risposta efficiente la più grossa che mi viene è quella sulla sanità che dicevo prima proprio per la quantità di dati che possono essere messi e riuscire grazie ai dati a risolvere più velocemente quindi anche in temi non solo la salute della gente è garantita ma anche si fa prima e costa meno ed è vero che non sempre i politici tengono conto dei suggerimenti che danno digital twins delle città certo ai noi vero anche questo vero anche questo ma anche capire se in una città ha senso costruire un nuovo centro commerciale o dei finanziamenti bene ma davvero serve un centro commerciale forse sì forse ne servirebbero tre non lo so però sono i dati e già al 90% dei casi senza intelligenza artificiale sarebbe sufficiente andare a guardare i dati e quei centri commerciali che abbiamo sono pieni all'80% vuol dire che evidentemente gli farei un dispetto perché gli tolgo clienti quindi non farei nemmeno del bene a quelli che già hanno un lavoro allora forse ci faccio qualcos'altro la strada è lunga ma lunga o no it's a long way poi ad esempio anche sulla produzione di CO2 se noi avessimo dei sistemi anche delle app nostre che potessero calcolare ma li abbiamo però non si applicano non si applicano perché nella scorsa conferenza non di questo ciclo ma dell'altro ciclo hanno mostrato appunto quanta CO2 è stata ridotta con le azioni macro ma c'è anche però il contributo dei singoli che magari in un modo o nell'altro riescono a ridurre la produzione di CO2 sarebbe molto interessante avere dei sistemi che come noi abbiamo un'urgenza climatica abbiamo l'urgenza di ridurre la produzione di CO2 con degli obiettivi molto tassativi al 2030 al 2050 sarebbe molto interessante sviluppare delle potenzialità per poter migliorare la nostra capacità anche individuale oltre che collettiva perché già sarebbe utile che le amministrazioni li mettessero in trasparenza questi dati perché i dati magari ci sono però non sono in trasparenza cioè è faticosissimo andarli a recuperare e però insomma anche questi individuali sarebbe io credo molto perché se 600.000 cittadini se 3 milioni di cittadini a Roma riducessero solo anche solo di appunto una tonnellata cioè sarebbero 3 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate che forse è anche l'obiettivo ad esempio del CERF di Roma o 600.000 del CERF di Genova o 300.000 del CERF di Reggio sì adesso mi è venuto in mente macchine le macchine le automobili nuove che adesso cominciano ad avere qualcosa di un po' più tecnologico e a me per esempio c'ho l'app della marca della mia macchina che mi dice guarda che non so dovresti fare benzina oppure hai lasciato la porta aperta oppure manutenzione predittiva c'ha tutti i dati dice sappi che avendo tu fatto tot mila chilometri di solito nelle nostre macchine dopo tot mila chilometri bisogna fare questo coso di manutenzione e questo viene basato sui dati potrebbe essere sfruttato ma anche nei trasporti pubblici abbiamo che decidiamo che passa nei trasporti pubblici quell'autobus passa ogni dieci minuti punto dalla mattina alle otto alla sera a mezzanotte ma ha senso ogni dieci minuti dalle otto a mezzanotte oppure ci sono dei giorni che sarebbero delle ore in cui sarebbe più opportuno ogni cinque minuti e delle ore in cui basta ogni venti di minuti e insisto che anche su questo basterebbero i dati e basta se poi lo facciamo fa da uno strumento di intelligenza artificiale così non diamo la colpa a nessuno è più facile perché c'è anche quell'elemento lì perché eh ma se il mio dirigente mi dice così ma no ma io è più bello se posso far vedere che è capito c'è un'elemento lì ma questo è un'elemento lì da quel punto certo boh leggevo degli articoli anche riguardo i meteo no per favorire praticamente le gite fuori porta da una parte o piuttosto dall'altra che sono state proprio denunciate in manipolazioni no nel meteo per cui se tu sai che in quel periodo le persone vanno che ne so in montagna dai come meteo la possibilità un'alta probabilità di nevicata per esempio no per cui favorisci la gita per andare a sciare per cui anche lì la parola chiave che hai detto è sicuramente la consapevolezza del cittadino che sappia confrontare no più sistemi più piattaforme in modo tale da farsi un'idea perché la manipolazione è dietro l'angolo in ogni in ognuna di queste app parliamoci chiaro insomma no e poi adesso quello che è secondo me uno dei punti notevoli proprio del IACT europeo è che esiste la possibilità da parte dell'utente del cittadino di denunciare certe manipolazioni di cui si accorge e questo secondo me è un bel passo avanti insomma però bisogna che il cittadino sia formato perché altrimenti è praticamente una vittima dei sistemi non riesce a distinguere non è siamo all'inizio se posso aggiungere una cosa perché è interessante per la bioetica e questa volta per effettivamente il comitato nazionale di bioetica perché c'è un gruppo di lavoro sulla medicina di genere e qui evidente andorcentrica sappiamo tutto quello che avviene che si modelli maschili che poi vengono riportati su donne eccetera però la cosa interessante che posso darti del tu Flavia e questo aspetto invece che è propositivo che io effettivamente avevo un po' immaginato ma ti sarei grata se magari potessi illustrarlo meglio perché allora mi farebbe piacere nel gruppo di lavoro dire che l'intelligenza artificiale può aiutare a superare in qualche modo proprio tutti questi bias della medicina di genere almeno in certa misura o quantomeno ecco anche aprire tu mi sembra che hai fatto il discorso delle malattie rare sì certo ecco e allora magari vedere questo aspetto interessante che potrebbe essere positivo perché noi dovremmo c'è ambivalenza ovviamente come in tutti i processi culturali ma questo mi interessava in modo particolare perché essendoci questo gruppo di lavoro non vorrei soltanto denunciare sempre la medicina ma dire anche l'intelligenza artificiale potrebbe allora ecco chiederai a te qualche cosa di più preciso allora sicuramente può il problema che le garanzie vengono da quello che dicevamo prima perché la raccolta e l'analisi di dati chi la fa deve essere diversificata diversificata in gruppi di popolazione tipologie di persone di entrambi i generi un'adeguata rappresentanza perché se l'analisi dei dati la fa soltanto una tipologia di persone c'è ovviamente disparità e quindi questo aiuterebbe anche nell'identificare anche nella ricerca gli scienziati devono correggere questi bias quando se ne accorgono prima che generino ulteriori errori per cui questo poi genera quel feedback che dicevo scusate di nuovo la tosse e questo è ovviamente un problema non indifferente gli algoritmi di diagnosi la diagnosi il medico la fa su di me e su di te la farebbe diversa perché conosce la tua di storia che è diversa dalla mia io ho una storia familiare che mi mette a rischio su una cosa tu no e quindi ci sono molte variabili anche di genere quindi bisogna addestrare ancora una volta agli algoritmi a riconoscere i sintomi e le condizioni che si manifestano diversamente tra uomini e donne lo dicevamo sull'infarto prima analizzare anche le risposte ai trattamenti mi tratti con quel farmaco centomila donne centomila uomini vedi i risultati se mi tratti con quel farmaco solo gli uni o gli altri non capisci il risultato quindi insomma è la solita cosa che ognuno in ogni ambiente in ogni strumento nel mondo della cardiologia o della robotica indifferentemente l'importanza è garantire equità e l'abbattimento dei dei bias cognitivi e mettere insieme la collaborazione tra esperti di dati nel caso della medicina medici perché io sono brava con i dati ma di medicina non capisco niente prendiamo mia sorella che è medico bene lavoriamo insieme io abbatto i suoi di bias lei abbatte i miei e riusciamo ad aumentare il potenziale che questo potrebbe generare perché sicuramente genererà grosse soluzioni la mia dottoressa di base non può essere esperta di cardiologia di dermatologia di bla 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 però magari prima di mandarmi da uno specialista può consultare inserendo i miei dati tra l'altro adesso per fortuna abbiamo anche il fascicolo sanitario elettronico se tutti i nostri dati sono lì dentro dovremmo farlo piano piano sempre di più lo sarà serve non solo che quando mi manda dal cardiologo il cardiologo vede tutta la mia storia di tutte le analisi che ho fatto come andava prima durante e dopo è difficile che un paziente vada con la cartellina completa degli ultimi vent'anni di dati perché io non saprei dove trovarli avendo fatto troppi traslocki in vita mia non so dove li ho messi ma a parte questo c'è il fascicolo sanitario elettronico ma può essere anche quello che guarda il mio medico di base e lo mette dentro un sistema e dice in base a queste tue informazioni tu sei più a rischio di A che di B quindi facciamo un controllo su A ce ne sono miliardi di idee sono sicura che se chiedi ad altri te ne daranno altre miliardi di risposte perché sono veramente tantissime Pinoccia volevo chiederti sì perché parlando visto che Luisella ha fatto riferimento al Comitato Nazionale di Bioetica io mi domando esiste un tu prima hai fatto riferimento a Rodotà e a quello che ha inserito Rodotà ma esiste un sistema diciamo di monitoraggio su proprio su tutte queste espressioni dell'intelligenza artificiale che valuti appunto i pregiudizi che perché sarebbe interessante adesso è chiaro che bisogna stare molto attenti perché c'è tutto l'elemento diciamo di di mantenimento del livello di libertà insomma di espressione di tutto però avere comunque un sistema di monitoraggio che monitori i pregiudizi cioè come quello che abbiamo appunto che ci hai che ci hai mostrato così lampante ed evidente e che corregga ovviamente questa che indichi quali siano i percorsi che possono essere fatti per correggere non so se la mia è una domanda astrusa ma mi veniva proprio in mente ci sono delle norme ISO delle strategie c'è le IACT ma ci sono anche altre che hanno fatto appunto a livello nazionale qualcosa lo puoi fare ma in realtà il grosso è fatto da l'azienda il lente che si fa fare una piattaforma di intelligenza artificiale per risolvere quel problema è l'azienda che lo fa fare che deve mettere insieme la raccolta dei dati che siano meno meno pregiudizievoli e soprattutto come dicevamo continuare a farlo nel tempo per esempio se una pubblica amministrazione aprire con una piattaforma di partecipazione ai cittadini che dicono avete scritto così ma nel mio caso non è vero è vero negli altri 999 ma nel mio no e questo è un dato quindi permettere più siamo ripeto il solito discorso del prisma più siamo a guardarlo e più abbiamo chance di abbattere qualche divario e qualche bias non c'è una regola che si può fare credo adesso non lo so se sono io che ignoro ma non mi viene in mente niente che a livello mondiale nazionale anche solo si possa fare per dire qui bias non ce ne sono perché perché ci sono negli esseri umani la nostra storia la nostra cultura cioè io parlavo stamattina con una prof dell'università di Bologna che è una sociologa siamo femministe entrambe quindi abbiamo molte basi è donna è bianca è italiana femminista ma io sono sicura che se parlo con un'informatica giapponese e parliamo di tecnologie mi assomiglia più l'informatica che la mia amica di Bologna su quello se invece andiamo a guardare sui pregiudizi nel paese probabilmente la giapponese non riuscirebbe a capire perché da loro sono pregiudizi diversi dai nostri quindi è proprio guardare il mondo da tutte le sue facce che sono troppe e quindi possiamo farlo soltanto in tanti e sempre nel tempo continuando a controllare l'abbattimento è molto bella l'immagine del prisma perché è un'immagine che io ad esempio ho trovato e ho usato tanti anni fa proprio per indicare la bellezza del pluralismo perché tutte le le faccette del prisma sono straordinarie e ciascuno rappresenta nella sua diversità la ricchezza però il prisma è anche unitario quindi c'è il diamante ecco il diamante con tutte le sue facce è molto bella noi la dovremmo questa immagine secondo me mantenere proprio perché ci dà insieme il senso della bellezza che ogni faccetta debba essere riconosciuta e che quindi il pluralismo non ci debba fare paura vedevo che il commento di Gabriella è molto bello è vero il progetto che ha fatto Ilaria Capua con Fabiola Giannotti su anche questo è importantissimo perché appunto raccolgono i dati in maniera predittiva e poi però devi continuare a valutarla e si sviluppare sistemi di intelligenza artificiale che lavorano su quei dati può aiutare ancora una volta può e va nel tempo verificato facendolo vedere anche a terzi magari anche a un uomo magari di un altro genere eccetera eccetera e si mi rendo conto che diversamente da altre cose che le tecnologie offrono questa non offre una soluzione offre tanto lavoro da fare si ma questo è bello perché noi dobbiamo offrire continuamente domande e problemi è così che che si va avanti eh ti pare almeno è così che io lo intendo se uno dice io so tutto ma basta assolutamente poi il discorso interdisciplinare anche mi è molto piaciuto sai in bioetica noi lavoriamo proprio su questo l'interdisciplinarietà è la nostra chiave di lettura dei fenomeni tutti i fenomeni che sto io trovo bellissimo anzi sono veramente felice finalmente di essere riuscita poi a collegarmi in tempo non so probabilmente o per tutto qualcosa ma importantissimo questo contributo per il festival assolutamente quindi è merito di Pinuccia che mi ha acchiappata no io infatti ti ringrazio tantissimo e ringrazio naturalmente tutti se non ci sono altre domande ma lascerei proprio a Luisella di chiudere visto che questa è l'ultimo incontro di questa lunghissima serie quindi innanzitutto sei già invitata il bilancio al festival della bioetica senti dato che noi siamo in collaborazione ci siamo divisi sororalmente non vorrei dire fraternamente questo compito beh tanto il bilancio dal tuo punto di vista che io ti invito a fare dato che abbiamo coordinato insieme cosa dici quindi a te Pinuccia io poi continuo no io sono veramente molto molto contenta perché oltre a approfondire e quindi inviterò anche le insegnanti i rapporti abbiamo rapporti con le scuole eccetera a seguire questo corso sul sito di Equestituto perché veramente ogni conferenza ha portato dalla prima di Gabriella D'Adeo fino appunto all'ultima con Flavia Marzano ha portato veramente un valore aggiunto rispetto alla conoscenza di tematiche che noi assolutamente almeno io personalmente diciamo che ignoravo in questa prospettiva insomma con veramente scenari anche preoccupanti ma da problem solving e quindi poi altre conferenze sono state molto interessanti perché ci hanno mostrato anche l'applicazione pratica appunto della dell'intelligenza artificiale in contesti anche industriali ma anche ad esempio quella di Hugo Bardi molto interessante sulla visione del futuro e sulle risposte che grazie all'intelligenza artificiale si possono attivare rispetto alla più grande sfida che avremo che è quella appunto a mio avviso centrale come diceva appunto come era scritto nei limiti dello sviluppo di Roma quella dei cambiamenti climatici quindi ritengo veramente che ogni contributo abbia aperto degli orizzonti e quindi le nostre conferenze dovremo veramente diffonderle quanto più è possibile a tutti i soggetti insomma per i quali è stata anche pensata ecco invece sul festival della bioetica lascio a te sì no grazie no no condivido pienamente e tra l'altro io ho imparato tantissime cose perché poi il bello di questa collaborazione e questa condivisione è che si entra in campi è la contaminazione proprio sono il pensiero della complessità di Moren che guida poi il lavoro dell'istituto di bioetica e quindi queste contaminazioni tra campi diversi che possono anche generare dubbi e quindi è ovvio che i problemi come si diceva aumentano però questo è assolutamente positivo perché questo è il percorso che noi dobbiamo fare quindi nel festival questo noi lo tracceremo e quindi molto di quello che ad esempio ha detto Flavia sarà anche al di là di quello che proprio l'equistituto quindi il 27 la giornata dedicata ci sarà anche qualche contaminazione perché ad esempio vi posso già dire che il 27 mattina si parlerà di intelligenza artificiale in medicina e quindi molte cose che Flavia ha detto e mi auguro che passeranno anche quindi c'è questa circolarità ecco non c'è solo l'economia circolare ma in bioetica proprio c'è una circolarità di saperi che noi dobbiamo favorire però ripeto c'è sempre molta pigrizia io vedo anche nei colleghi ho fatto tanta fatica all'università perché questa logica dei campi separati è ancora molto dominante e quindi la bioetica è proprio come io la intendo la bioetica globale quella che invece scombina scompone mette disordine e crea e crea quindi problemi e spesso anche dilemmi quindi io trovo perfetta la come è stato concepito e realizzato questo per l'intreccio di competenze di saperi e per le esperienze che abbiamo maturato un po' di rammarico perché la partecipazione non è stata quella che io speravo cioè forse su questo bisognerebbe sì ma devi sempre dobbiamo fare il calcolo sì dobbiamo fare la valutazione anche di quelli che hanno seguito su YouTube e su Facebook adesso faremo un'analisi dei dati guarderemo appunto perché ho visto più o meno e poi le successive visualizzazioni che comunque si attestano sempre sulle 50 60 insomma quindi comunque adesso con Christopher cercheremo di fare anche un'analisi proprio per capire fino ad ora la diffusione e poi d'orino avanti dobbiamo ancora poi promuovere queste conferenze perché questo è solo l'inizio l'inizio di un percorso perfetto assolutamente bene io direi che ci siamo dette molte cose importanti e quindi va bene ci vedremo ma anche prima ci sentiremo io comunque le cose che ha detto Flavia ne farò tesoro e vedrò anche nel gruppo di lavoro del CNB quello che posso comunque io trovo ripeto sconvolgente e mi sono fortemente motivata scrivere qualcosa perché il fatto anche di segnalarlo ecco adesso nessuno ma io vorrei usare il termine denuncia perché questo è veramente qualche cosa di vergognoso cioè non grazie a Flavia che ce l'ha fatto scoprire ma questa compilazione di doveri cosa dici Flavia perché io se tu non me l'avessi fatto scoprire l'avrei ignorato darne notizia quantomeno perché poi l'ironia va data e va anche magari cercata una soluzione che cosa possiamo fare per la soluzione tanto darne notizia e vedere chi si rispecchia e come e chi è che ha compilato questa specie di lista dei doveri perché questo del coprirsi non l'ha compilata nessuna non l'ha compilata non è compilata da nessuno sì ma voglio dire d'accordo ma dato che basta che uno esprime un'opinione viene immediatamente ma no è la statistica che te li metta cioè è una questione sempre statistica ma mi direte chi è che coprirsi la testa chi è che nel nostro paese probabilmente ci sono tantissimi testi di giornali di articoli la testa chiaramente questo è una era Paolo eccetera che dice che la donna deve tacere in ecclesia mulier tacere in ecclesia eccetera amen quindi chiaro che se noi andiamo a rivangare eccetera poi Adamo e Deva però voglio dire mi comunque scusa lasciatemi essere sorpresa in ogni caso è anche un po' scandalizzata e sono contenta di esserlo perché darmi notizia e riflettere su questo io non avrei mai non sarei mai andata a digitare la donna Deve però è interessante che se uno lo fa si trova davanti a questo specchio dei tempi che mi sembra più iraniano più è perfettamente coerente con quelli che sono i dati dell'UEF sul divario di genere cioè come dire rispecchia la realtà cioè questo è purtroppo ci mette davanti a quello che è un fatto compiuto è che le donne vivono ogni giorno ogni santo giorno sulla loro pelle sì però non è che solo la rispecchia la influenza anche è quella perché se uno dice la donna Deve perché se viene utilizzata vengono utilizzate poi questi i dati comunque che vanno in pasto ai sistemi di intelligenza artificiale vanno a pescare nell'UEF però per fortuna CHAPT quello che vuoi era sul politicamente corretto diceva delle cose convenzionali che però erano come dire in linea con quello che è la visione diciamo perché almeno quello allora scusate c'è un problema ma chi devo credere chiediamo alla Flavia Google e CHAPT ecco come li mettiamo insieme perché Google sembra che parli in una situazione iraniana no allora Google non pensa mentre CHAPT sì è tutta lì la differenza nel senso adesso farlo detto pensare prendetela con le molle e no no Google prende una scatola piena di dati e questi dati non li controlla Google sono persone che scrivono ovunque sui social sui giornali online ovunque online scrivono quel che gli pare punto queste persone scrivono che 2 più 2 fa 7 se ci sono milioni di persone che scrivono che 2 più 2 fa 7 se io scrivo 2 più 2 è uguale Google mi risponde 7 quindi non perché è stupida Google ma perché prende registra è un motore di ricerca cerca solo quello le informazioni che sono in giro mentre uno strumento di intelligenza artificiale elabora e c'ha ecco quindi è questa qui il grosso della differenza questo è molto giusto 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 uno registra capisco l'indignazione non sei sola no ma quantomeno vorrei dire lo sapevate che su Google c'è un sito questo esatto lo devi fare sia per l'uomo che per la donna perché se uno si rispecchia lì si vergogna bisognerebbe vergognarsi ogni tanto anche come dice come dice la mia Marta Grande Marta Nussbaum c'è 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 la vergogna che è un sentimento che che è importante coltivare io mi sono profondamente vergognata nel leggere queste cose sia dell'uomo che della donna e vorrei comunicare questo sentimento per vedere se viene condiviso penso che sia condiviso e allora può essere un'occasione di riflessione perché no vi pari vabbè vediamo sperando che non diventi un boomerang ah ma io dei boomerang a me non me ne porta niente assolutamente no no sono abituata a questi effetti senti Rusella allora la Flavia la invitiamo per il mattino del 27 ma guarda io lavorerei 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 per il mattino lavorerei fortemente non lo so io lavorerei nel 27 maggio no 27 agosto 27 agosto no no hai qualche tempo ci sei ci sei no perché sai quanta gente dice ah che peccato io mi trovo non so vado nelle isole esatto un po' dei Caraibi no no Flavia senti beh no io pensavo che tu fossi stata informata il 27 il 26 siamo le date del festival sono il 26 e il 27 agosto esordisce il 26 e con discorsi di carattere più filosofico generale però ricordiamoci se poi il 27 mattina e pomeriggio e sera come e però io lavorerei molto anche nella Gorà quindi la vedo perché potrebbe anche replicare qualche modo per il pubblico perché il momento della Gorà è la sera dove c'è il pubblico che è quello che poi io credo sia più interessante cioè la gente che magari passa di lì sente qualcosa e vuole sapere di più quindi questo fatto di un'intelligenza artificiale che rispecchia e secondo me ahimè è strumento molto pericoloso perché non soltanto rispecchia ma coltiva e potrebbe ecco anche intensificare rendere sempre più pervasivi questi stereotipi quindi il fatto che noi ne prendiamo conoscenza è importantissimo Dove sarebbe? Santa Margherita Ok Santa Margherita Ligure Io mi sto organizzando eh Luisella Eh lo so lo so Gabriella lo so Però di essere forse ho trovato un escamotage C'è anche c'è anche l'online alla disperata però l'online ricordatevi è un intervento registrato non facciamo più collegamenti come questo perché vedete che sono anche abbastanza complicati e invece interventi registrati di una decina di minuti Sì questo è il problema del festival lo devo dire che mentre il pre-festival ci dà la gioia della della lezione perché queste sono state tutte belle bellissime lezioni e quindi lezioni che durano un'ora eccetera in cui poi si discute questa è la gioia secondo me della conoscenza è il percorso che ci auguriamo nel festival purtroppo c'è invece il momento della sintesi e lì essendo in tanti noi dobbiamo essere tanto bravi da stringere in una decina di minuti e questo me ne rendo conto che dura quelli che sono e quindi i nostri pensieri è qualcosa però la sintesi invece secondo me è una cosa importante è un bel esercizio no no ma io sono d'accordo con te ad esempio devo dire che ho imparato moltissimo da quando scrivo ormai sono 30 anni sui giornali e sul secolo questo è stato un esercizio di grandissima utilità io dovevo in uno spazio breve dire quelle cose e devono essere chiare e precise ed è secondo me una sfida importante ci aiuta questo mi ha aiutato con i miei studenti cioè era qualcosa che poi si riversava anche nel mio lavoro universitario quindi non era tempo perduto e quindi questo ve lo e allora io trovo che quindi se sarete presenti e se non ci riuscirete però ecco questa registrazione che dovrà condensare ecco quello che è stato detto che vi sembra più rilevante ripeto però questo degli stereotipi come anche discorso di apriela le vedrei anche bene in nell'agorà l'agorà è un è un dibattito in genere quattro quattro persone coordinato da una carissima amica che è direttora di di noi donne che è il partner del del nostro eco istituto come parte del scusate dell'istituto di etica oltre l'eco e anche partner radio radicale che trasmette anche quest'anno trasmetterà il nostro il festival quindi questo è il programma di intelligenza artificiale mi pare bene però in realtà sono intelligenze e quindi intelligenze vi posso già anticipare l'intelligenza animale è un titolo secondo me molto bello che non ho inventato io ma che è il titolo di un bellissimo libro del primatologo siamo così intelligenti da capire l'intelligenza degli animali punto interrogativo è bellissimo io lo trovo bellissimo e quindi di questo poi si parlerà anche come anche l'intelligenza delle piante qui ho trovato persone donne bravissime che ci illustreranno mostrando però anche anche diciamo come il dibattito sull'ad esempio la neurobiologia vegetale di Stefano Mancuso sia tutt'altro che a Co si è fantastico ma provoca molte perplessità di cui dovremmo dare atto perché un certo rischio di antropomorfizzazione esiste e questo è un rischio che noi dovremmo evitare sia per l'intelligenza degli animali che per l'intelligenza vegetale quindi ci sarà secondo me molto da imparare da discutere ma una di queste due donne ha fatto una bellissima associazione che io adesso ve la dico si chiama We Tree storie di donne alberi e città peccato che non lo riesco a vedere ma loro hanno pensato di fare un bosco nella città dedicandole proprio alle donne bello eh storie di donne alberi e città lei è Maria Lodovica Gullino che ha fatto questa meravigliosa iniziativa sarebbe da riproporre e io infatti mi ci sto molto appassionando We Tree noi alberi quindi alleanza donne alberi inutile stare lì dire i monumenti ma il vero monumento è quello vegetale noi dobbiamo pensare a creare boschi inutile che lo dica Pinuccia che lei a Reggio quando sono venuta ho visto cose meravigliose e questo secondo me è storie di donne alberi e città se vi interessa 200.000 alberi eh lo so lo so e a Roma però anche a Roma 20.000 quindi non è che in due anni abbiamo piaccati e Genova ripeto Genova il piano del verde è tutto da perché è vero come dici tu Pinuccia che ha un grande verde ma tutto un verde nei dintorni alle spalle il verde urbano è deficitario in un modo proprio c'è da gridare ma perché mancano i dati se posso c'è ancora questo grande problema dei dati a Genova certo è proprio il problema centrale perché diciamo che la prima cosa da fare purtroppo è che avevamo iniziato a Reggio che avevamo iniziato anche a Roma è il censimento degli alberi certo e perché devi partire da lì per sostituire per manutenzione per fare la manutenzione e poi anche per progettare nuovi impianti ma se non hai i dati intervieni a casaccio è cosa che fanno purtroppo le amministrazioni sì sì no no questo intervenire a casaccio torniamo anche un po' al tema dei dati come elemento sì ecco e qui vedete di nuovo come l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto io trovo io trovo che sia molto importante perché non vorrei che si diffondesse lo spavento io vedo che c'è molta io invece vorrei sottolineare gli aspetti positivi che noi possiamo ottenere dall'intelligenza artificiale basta volerli cogliere sì sì no cogliere valorizzarli naturalmente eccetera quindi comunque se vi interessa questo we tree posso guardarlo ho messo il link in chat sì sì ah perfetto grazie anch'io Leon l'ho visto e dobbiamo salvare le informatiche vanno subito sul sito se no cosa serviamo scusa bene cari allora io vi dovrei salutare perché ho un impegno io che ho condominio in cucina no 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 assolutamente giusto le donne devono devono cucinare sì io stasera devo cucinare però mio merito tutto il tempo lavava i piatti adesso c'ha la stoviglia ma lui lo faceva proprio in una maniera spontanea e molto carina e quindi va bene cari è stato un piacere ci siamo anche rasserenate alla prossima ci vediamo allora fino a prossima ma è stato bello vederti grazie grazie è stato un grande piacere Chris ciao ci sei sì ci sono ciao a tutti grazie di tutto grazie molto per l'aiuto che hai dato senza di te sarei stata perduta esatto esatto eravamo tutte perdute senza Cristo bene grazie a tutti